Capitolo 6. Tre uomini. Il botola non tardò a trovare il vecchio amico e lo condusse a casa sua. Strada facendo, cercò di persuaderlo a trattare con indulgenza a un figliuolo che mostravasi pentito dal fondo del cuore. Citò perfino il nostro signore, il quale ha detto che sarà molto perdonato a chi avrà molto amato. Suscitò dei ricordi giovanili per dimostrare a Tognino che il mondo è sempre stato mondo e lo sarà sempre finché ci saranno uomini e belle donnette. Quando fu sui primi gradini della scala, vedendo che il vecchio amico lo ascoltava poco, lo prese per il bottone del vestito e toccò il tasto di Olimpia. Spero che tu non vorrai infierire contro questa incipriata creatura. Essa fa il suo mestiere, canta come può. Il mio parere sarebbe che tu l'avessi a pigliare con le mole d'argento, come si fa con lo zucchero. Essa da quel che so potrebbe farti del male. A me, esclamò il signor Tognino, sogghignando, o almeno so che i tuoi riveriti parenti fanno un gran conto sulla sua testimonianza. Testimonianza di che? Conto quel che mi hanno contato. Il Mornigani avrebbe detto in sacristia di Sant'Ambrogio che Olimpia t'ha visto. Che cosa ha visto? T'avrebbe visto entrare nella stanza della ratta a cercare una carta. Ah sì, cantò in tonno nasale il vecchio affarista che non si aspettava questa novità. Ah, mi ha visto. Oh bella, bella. E ridendo confusamente, cercò di nascondere all'occhio fino indagatore del pignoratario un improvviso turbamento di animo. Era una testimonianza inconcludente a rigore e di nessun valore morale, ma la notte non dormita, l'agitazione nell'animo, lo scoraggiamento da cui sentiva si preso, avvedirono un istante il vecchio navigante che stentò a vedere i gradini della scala. Quando furono davanti all'uscio, il botola lo trattenne ancora due minuti per dargli un altro suggerimento. Sono persuaso che è una trappola montata dai tuoi parenti e dall'avvocato, ma ad ogni modo sai che queste donne sono sempre pronte a cantare il falso. E in una causa Olimpia non ha nulla da perdere e invece ha tutto da guadagnare se giura sui santi evangeli che t'ha visto a cercare una carta. La sua finestra dà precisamente sulla stanza della defunta. E sai che queste donne patiscono l'insonnia qualche volta. E poi io prevedo un garbuglio. Olimpia tirerebbe in giudizio Lorenzo, il padre contro il figlio. Ti ha forse parlato lui di questa faccenda? Balbetto il vecchio, impalidendo un poco. Me ne parlava ieri sera, anzi fu lui che mi fece notare questo pericolo. Il vecchio affarista si abbrancò con la mano all'appoggiatoio di ferro dello scuro pianerottolo e fece sentire un secco sogginio che somigliava piuttosto a un rantolo. Il botola aprì l'uscio e nell'indicare uno scalino per cui si scendeva nella stanza si curvò verso l'uscio e sussurrò. Zucchero e miele! Lorenzo, che stava aspettando in casa del pignoratario l'esito delle trattative, stentò sulle prime a riconoscere suo padre, un poco per il gran cappello di campagna che gli ombreggiava la faccia, un poco per l'andatura floscia e legata con cui entrò nella stanza. Mentre si aspettava un uragano di rimproveri, vide con sua meraviglia l'adirato genitore entrare e mettersi a sedere senza parlare, con l'abbandono di chi stenta a reggersi sulle gambe. Sia che la notte agitata o l'emozione o lo strapazzo gli facessero male, sia che l'imprevista ingerenza di Olimpia entrasse a turbare l'equilibrio morale del vecchio, risultò a Lorenzo che il babbo non era in vena di far scandali e rumori. Io sono felice e orgoglioso, cari amici, di offrire la mia povera casa a questo, diremmo così, congresso della pace. Così cominciò il botola col tono scherzevole per addolcire l'aria e per avviare un discorso utile per tutti. Vi prego di non guardare al disordine e alla polvere di questa mia povera casa, io sono uno straccivendolo. E si sa, tu Lorenzo sediti qua alla mia sinistra e io mi metterò in mezzo a fare il presidente. Non manca nemmeno il campanello. Il vecchio toccò e fece squillare un coso di bronzo che era sulla tavola e ne trasse un suono fesso che si accompagnò al suo ridere che aveva pure del fesso. Sedette in mezzo ai due maccagno e stirandosi le mani voltosi a Lorenzo. Dunque, soggiunse, dicevo poco fatto, padre, che tu sei pentito e dolentissimo di ciò che è accaduto ieri sera, che pur di aggiustare la cosa senza scandali, pur di far pace con tua moglie, sei disposto a promettere e a giurare che il suo padre è un ladro, interruppe fieramente il babbo, come se si svegliasse bruscamente da un lungo letargo e alzò il dito magro e lungo con cui era solito infilzare uomini e cose. Che cosa non è pronto a giurare quest'imbecille mangia pane? Adesso tu stami zitto e lascia parlare a me. Siamo uomini o donne? Così il botola, con una certa furia, e voltosi a Lorenzo seguitò. Intanto abbiamo buone notizie della signora Ravella. È venuta a Milano sua madre e tutti siamo interessati a mettere acqua sul fuoco. Acqua, acqua tognino e non olio. Benissimo, disse Lorenzo arrossendo come un ragazzo scapestrato, ma non cattivo, che sente ricordare il nome della mamma morta. Bravo, ma non basta dir benissimo, sor Lorenzo riverito, soggiunse il botola col piglio amoroso e severo di un buon zio interessato. Tu devi dimostrare col fatto a quest'uomo qui e a tua moglie che sei veramente un uomo, non una banderuola. Hai la fortuna di possedere una donnetta bella, graziosa, educata, un rosino da far gola al principe triulzio e vai a perderti come una bestia con Olimpia. Sì, buon marito, non un burattino. Sì, buon padre di famiglia, non un libertino. Il tono predicatorio del botola, il sussiego con cui esponeva queste belle massime dalla sua seggio la zoppa, nell'area morta di quel camerone pieno di muffa e di stracci, non potecche muovere un poco la naturale allegria del bomba, che sbuffonchiando rispose. In quanto al buon padre di famiglia il mio dovere l'ho fatto a suo tempo e non è colpa mia se l'ortolana... Fallo tacere quel tanghero, supplicò il padre infiammandosi, sollevando le due mani aperte verso il botola. Fallo tacere. Non cominciate a irritarvi e a rivangare le ragioni e torti. Del passato non si deve parlare più in vitam aeternam. Amen. Sei tu disposto, Lorenzo, a far veramente giudizio? Se sì, questo tuo padre qui, che in fondo ti vuol bene, userà tutta la sua autorità per persuadere la buona sora Rabella a mettere un piede sul passato. Non solo, ma visto e considerato che in seguito alla vostra recente eredità le condizioni sono mutate, tuo padre, di cui credo di interpretare il sentimento, vorrà assegnarti d'ora innanzi un reddito maggiore e più conveniente al tuo Stato. Vorrà pagare qualche tuo vecchio debituccio. Niente affatto, protestò il vecchio maccagno. Tu, mio caro lustrissimo e severissimo genitore, devi mettere questo figliuolo nelle condizioni di poter fare onore ai suoi impegni. In quanto Olimpia, se vi fidate di me, ci penso io. Con pochissimo sacrificio leviamo di mezzo la pietra dello scandalo. Va bene? Mi date carta bianca? Io per me ti lascio carta bianca finché vuoi, disse Lorenzo con accento d'uomo che parla sul serio. Ripeto che di questo stato di cose sono io responsabile, ma amen, non se ne parli più. Solo mi permetto di proporre a mio signor padre una piccola condizione. Lorenzo non aveva in vita sua pronunciato quattro parole più gravi e solenni, al punto che il vecchio maccagno sollevò la faccia e rimase in curiosità di quel che sapientone stava per dirgli. Anche il botola rimase lì con la sua faccia di bertuccia incantata. Una piccola condizione che ho quasi il diritto di imporre, seguitò il giovane maccagno in preda a un convulso che gli faceva battere il bastoncino sulla punta della scarpa. Desidero cioè che mia moglie venga con me e stia con me. Voglio cioè essere io il padrone, comandare io in casa mia, visto che il marito sono io. Da infiammata la faccia del vecchio maccagno si fece livida. L'occhio si impicciolia un'espressione di gatto selvatico, il corpo si curvò sui ginocchi, le mani si strinsero in due pugni nervosi, uno dei quali si sollevò lentamente e ricadde come un maio pesante sul ginocchio. Voleva gridare tu, tu metti alla porta tuo padre, ma non gli venne fuori che un muglio duomo strozzato. Sì signori voglio così, ripete Lorenzo alzandosi con un visibile sforzo e piantandosi dritto davanti a suo padre con le braccia sul petto, come Napoleone, soffiando la sua straordinaria emozione che sollevava e scompaginava la pigra e sonnolenta volontà. Anche il vecchio si alzò, fece un giro intorno alla sedia, vi si appoggiò e soghignando con la bocca umida di saliva, tu vuoi mettere alla porta tuo padre, uscì a dire con un amaro sarcasmo. Bene, e io metterò te al posto che meriti. Il marito sono io. Che, che, palbettò il botola, cacciando in mezzo la sua faccia pallida e rugosa, con l'aria di un uomo che stenta a capire, o finge di non capire. Voi non mi farete una brutta scena adesso, siete in casa mia, non ve lo permetto, vergogna. I due maccagno si guardavano con l'occhio fisso, invelenito, in atto di sfida, l'uno col capo curvo e rigidito, appoggiato con le due mani allo schienare della sedia, l'altro, il giovane, ritto e impettito, nella sua spavalda vigoria, l'uomo forte e ignorante. Aveva un bel predicare l'amico conciliatore, di dietro al tavolo zoppo delle sue anticaglie. Quei quattro occhi cattivi non si torcevano, ma continuavano a dirsi delle cose cattive. Da quando si è vista una scena simile tra padre e figliuolo, vergogna, e c'è di mezzo una brave buona signora che merita rispetto? Così il botola, ma predicava ai sordi. Quei due uomini avevano dell'odio negli occhi e nel cuore. Tu metti tuo padre alla porta, ripresi a dire finalmente con voce sconnessa e indebolita dall'ira il vecchio, alzando una mano fin sotto il viso del ragazzo. Tu fai lega coi suoi nemici. Tu lo tratti come un ladro. Tu gli avveleni la vita, la vecchiezza. Tu porti la vergogna, lo scandalo nella sua casa. Tu gli rinfacci tutto ciò che ha fatto per il tuo bene. Tu gli butti sul viso un insulto infame. Non figlio, ma assassino di tuo padre. E come se un tratto balzasse infuriando l'ira che un resto di coscienza teneva incatenata, il vecchio maccagno saltò con le due mani al viso di Lorenzo. Lo investì, lo sospinse fin contro la parete, dove egli si lasciò spingere, cedendo, spaventato, abilito, facendosi scudo della faccia col bastoncino che stringeva nella mano, respingendo con l'altra l'assalto senza offendere, mormorando con un profondo gemito. Non toccarmi! Il pignoratario si cacciò in mezzo. Era una brutta scena. Forse non ne aveva mai viste così brutte. Gli rincresceva principalmente che la faccenda avesse presa una cattiva piega, che rendeva più difficile l'opera sua di intermediario tra Olimpia e un vecchio amico doneroso. E poiché Lorenzo, quasi affascinato dagli occhi piccini di suo padre, insisteva a rispondergli con gli occhi insolenti in atto di sfida, il pignoratario lo rivoltò con le sue mani ossute di scheletro. Lo cacciò verso l'uscio, ripetendo «Va via! Va via!». Il giovane si lasciò spingere un poco e quando fu sulla soglia, come se volesse confermare ciò che aveva detto, si voltò ancora verso il babbo e alzò il bastoncino come una spada. «Va via!» e lo chiuse fuori sul pianerottolo con tanto di catenaccio, che sonò come quello di una prigione. Tognil Maccagno rimase attaccato alla sedia per non cadere. Il suo corpo tremava tutto. Un pensiero buio e malvagio gli divorava la vita. Delle cento parole che il botola gli disse in quel momento, non ne afferrò una, come se l'avessero colpito con una mazza sulla testa. Capitolo 7. Tiranni e vittime. Mamma Beatrice accompagnò la figliuola fino a casa e, ricordandosi di avere qualche spesuccia da fare, la lasciò promettendo di tornare più tardi a salutarla. Rabella rimontò ad agio le scale, provando ad ogni gradino la fatica e la pena di chi sente crescere a poco a poco un peso, che altri vada lentamente caricando sulle spalle. Non incontrò nessuno o non vide nessuno. Spinto l'uscio entrò in casa, che ritrovò piena di sole e di allegria. Era la sua casa o la sua prigione? Non distingueva più, né aveva più bisogno di distinguere. La sua vita non aveva che un significato, espiazione. Attraversò il salotto e si rifugiò nella camera da letto. Nel rivedere il letto liscio e composto, un'idea più chiara e più mobile delle altre venne avanti, ma ella non vi si fermò. In quel letto, due mesi prima, avrebbe potuto morire. Si torse il mantello e il berretto e si guardò nello specchio grande, come era pallida. I capelli parevano una selva. Nel riporre le robe nell'armadio, le venni alle mani una piccola babbuccia di lana rosa rimasta dimenticata sui ferri. La buttò via. Sentì il pianto salire fino alla gola, ma con un crudele sforzo lo respinse e ricompose l'animo a una tranquilla e marmoria indifferenza. Mentre stava collocando in una scatola alcuni pizzi, che avrebbero dovuto servire per un battesimo, si sentì chiudere tra due braccia e poi sentì un volto caldo e lacrimoso sul suo, che la baciava teneramente sulle gote e sui capelli. Povera la mia siora, credevo che facessero patire soltanto le poverette, ma vedo che siamo dappertutto le stesse. Pazienza, se si buttasse un pochettino sul letto. Forse hai ragione, sono stanca. Venga con me, Benedetta. L'Augusta, che aveva bisogno di abbracciare qualche cosa di caro senza dir altro, si tolse in braccio la sua povera padroncina, la collocò sul letto, le sciolse le scarpe, la coprì col piumino e dopo averla baciata ancora una volta sui capelli, chiuse le imposte. Arabella si addormentò come una bambina stanca. Non fu che verso l'ora del pranzo che il signor Tognino chiese di parlare a sua nuora. Uscito dalla casa del botola col cuore avvelenato e rotto, si trascinò a casa, si rinchiuse un pezzo nell'ammezzato a scrivere, consegnò alcune carte al notaio baltresca e mandò due volte la portinaia a domandare a sua nuora se voleva riceverlo. La prima volta l'Augusta fece rispondere che la sua signora dormiva. Più tardi, circa verso le quattro, raccolto lo spirito ed è più tranquille, il vecchio prese a salire le scale, faticusamente, forse per la stanchezza, forse per una soggezione nuova che intricavagli, per dir così, la volontà e le gambe. Un reo di qualche enorme delitto non avrebbe provato un'impressione diversa sul punto di essere chiamato la prima volta davanti al giudice. Non era rimorso, non era paura, non era nemmeno vergogna o mortificazione per la cattiva condotta di Lorenzo. O forse in quel suo sentimento di stanchezza e di avvilimento entrava un poco di tutto ciò, misto a una tenerezza, a un desiderio di rivederla, di parlarle, di domandarle perdono, di ascoltare la sua voce, di trattare con lei un sistema nuovo di vita per l'avvenire, prima che suo figlio lo mettesse alla porta. Chiese all'Augusta, soltanto per provare la voce. Sì signore. Dov'è? In gabinetto, riposato tre ore. C'è anche sua madre? No signore, non è ancora tornata. E il signore si è visto? Non si è visto. Va a dirle che sono qui. Mentre l'Augusta eseguiva l'ambasciata, il signor Tognino rimase mezzo minuto in piedi, con le mani appoggiate alla tavola da pranzo, col cuore stretto e angustiato, in preda dolorose vertigini che si sforzavano di tirarlo in terra. Vide un gran rosso sulla tavola, che cercò di rimuovere. Non era che l'orario delle corse, rimasto lì dalla sera prima. Se vuol passare? Non si sente mica male? No, ha riposato, non me la facciano più patire. Il vecchio non intese le ultime parole della ragazza, pose il cappello sopra una sedia e, sollevata la tenda pesante che separava il salotto dal gabinetto, domandò, ributtando con uno sforzo supremo la sua puerile trepidazione. Permette? Avanti, disse la voce di dentro, che sembrò un'altra voce all'orecchio ottuso del vecchio malinconico. Alla prima occhiata lo colpì la pallidezza quasi spettrale in cui era bella, pareva dimagrita e quasi invecchiata. Davanti alla pietosa apparizione sentì tutte le amarezze, tutti i rancori, tutte le violenze che da tre mesi andava accumulando in difesa del cuore, precipitare in una rovina desolata. Ecco che cosa avete fatto di una povera creatura, avrebbe detto il cuore, se avesse potuto parlare o pensare. Il signor Tognino socchiuse un istante gli occhi. Arabella stava seduta davanti al tavolino da lavoro, sotto la finestra, nella luce attenuata dalle doppie cortine di seta celeste, con le mani occupate in apparenza in un piccolo merletto, che aveva cominciato con un delizioso pensiero nei primi giorni della gravidanza. All'entrare di suo suocero non si mosse. Il suo contegno, senza essere né sgarbato né umile, rimase di una freddezza impassibile. Pareva dire nel suo silenzio freddo e sdegnoso, ecco la vostra schiava, che ha creduto per un momento di poter fuggire, punitela. Arabella non disse, né pensò queste cose, ma il vecchio suocero gliele lesse sul viso. «La ringrazio ad essere tornata», disse, appoggiandosi al tavolino con le braccia, per resistere a un tremito nervoso che lo indeboliva, guardando dall'alto sui capelli di sua nuora accuratamente ricomposti. E come si appoggiava al tavolino per non cadere, così cercò con la voce di appoggiarsi sulle sillabe delle parole per non tradire la debolezza della sua commozione. «È sempre una bella cosa aggiustare i nostri guai in famiglia. Ha parlato con la sua buona mamma?». Arabella accennò di sì col capo, rimase chiusa e raccolta intorno al suo dolore il tempo di vincere la ripugnanza al parlare. E dopo aver inghiottito qualche cosa di duro che minacciò soffocarla, sollevò penosamente le palpebre, allargò gli occhi sereni, pieni di una timida sottomissione, in faccia a suo suocero e balbettò con un leggero movimento della bocca. «Le domando scusa». Egli, che non si aspettava quest'atto di eccessiva umiliazione, rimase ancora più sconcertato. Mosse un po' con una mano in aria e voltando la faccia verso la finestra, balbettò. «Non tocca veramente, non tocca a lei chiedere scusa. Dicevo soltanto che non bisogna dare occasione di parlare alla gente. La gente è cattiva». Arabella non disse nulla, ma si raccolse con tutte le forze della sua vita sul lavoruccio che teneva nelle mani, come se vi si aggrappasse per non precipitare in un abisso senza fondo. La sua testa prese un'immobilità di pietra. «L'avverto che fin da stamattina ho ritirato la querela contro il Beretta. Il questore lo metterà in libertà oggi o domani. Vede che ho tenuto conto della raccomandazione. Verrà a ringraziarla». «A ringraziare me?» «Sì, perché deve soltanto a lei se ho potuto dimenticare quel che ha fatto e quel che ha fatto contro di me». «La ringrazio», rispose Arabella freddissimamente. «E ora, mia cara, parliamo un poco degli affari nostri mentre siamo soli». Tirò vicino una sedia e vi si pose, sedendo sullo spigolo, mentre essa, ritraendo un poco la testa nelle spalle, parve dire «Sono qui». Egli si tolse lentamente i guanti, li distese sui ginocchi, accomodandoli l'uno sull'altro, come se cercasse di farli combaciare, e mentre andava così, stirandoli e carezzandoli, seguitò sottovoce, lentamente, parlando quasi a se stesso. «Senta, cara Arabella, io non sono qui per difendere Lorenzo. Anzi, non voglio nemmeno sapere quanto di vero ci sia in ciò che la gente racconta della scena di ieri sera. Non andrò a dare un titolo, il titolo che si merita all'azione malvagia di certe persone che hanno voluto sotto apparenza di zelo e di benevolenza avvelenare il suo cuore. Lei sa se io soffro meno di lei di questo stato di cose. Lei sa tutti gli sforzi che ho fatto perché Lorenzo lasciasse le vecchie abitudini. Anzi, la mia speranza nel dargli in moglie una donnina savia giudiziosa fu appunto d'avere in lei un aiuto. Non è così. Sfortunatamente una fila di sciagurate circostanze hanno guastato i nostri progetti. Un triste equivoco, un sinistro accidente, una lunga malattia, una cara speranza perduta e più di tutto l'invidia e la cattiveria della gente hanno concorso a sviare Lorenzo dalla sua casa. So chi si è presa la bella parte di spia. So chi ha tutto l'interesse che Lorenzo torni alla sua vita, dissipata. Io non lo difendo, tutt'altro. Ma forse egli non è il colpevole maggiore. Amen, non amareggiamoci per ciò che non si è potuto ottenere, figliuola, e vediamo di riparare, di lavorare per l'avvenire. Lei ha avuto la bontà di tornare in questa casa ed è già un bel passo. In quanto a quella donna ho già pensato a porvi rimedio. Tolta l'occasione, tolto il peccato. E resta la nausea, scappò detto alla poverina, che pure aveva promesso di non parlare. Sì, per un poco è naturale e io non pretendo che le abbia a dimenticare e a perdonare così subito. Il cuore è cuore e quel signore deve capire che non si offende una donna onesta, savia, amorosa, senza soffrirne le conseguenze. Io non sono venuto a parlare di perdono. Il perdono se lo deve meritare Monsu. Io sono venuto per rimettere sul tappeto la questione della campagna. Tutto è già pronto. Domani lei può venire via con me e ritirarsi in un bel sito quieto che ho scelto apposta sul lago dove potrà rimanere tutta l'estate, lontana dai pettegolezzi e dalle insiglie della gente, finché avrà trovata la forza di perdonare del tutto. Conduca con sé la Augusta, conduca pure la sua buona mamma se vuol venire e lasci fare a me tutto il resto. Sul lago troverà una bella casa, un gran riposo, molti fiori e se mi permetterà verrà trovarla. O se non vorrà vedere nessuno, faremo tutto ciò che può piacere a lei. Se invece preferisce andare qualche mese alle cascine, disponga pure. Avevo pensato che quando si trattasse della salute dell'anima e del corpo, fin le sue buone suore di cremè non le darebbero spizio per qualche tempo. Io non metto condizioni. Ciò che importa è che lei lasci subito Milano, dove sono troppo vive le impressioni e dove c'è troppa gente interessata a turbare la sua pace e a farle del male, in quanto a Lorenzo tra un mese e tra due deciderà a lei quel che si merita. Io non devo, ne posso avere una volontà, riprese a dire malinconicamente Rabella. Andiamo pure in campagna o restiamo qua, per me lo stesso. Rientrando in questa casa, io ho lasciato alla porta ogni mia volontà. Dia pure gli ordini che crede. Echinando il capo e accostando sempre più il ricamo agli occhi, come se con quel movimento volesse opporre un argine a un torrente di lacrime che il suo malgrado le gonfiava agli occhi, si chiuse di nuovo nel suo doloroso silenzio. Non sono ordini. Sillabò timidamente il suocero, guardandosi la punta della mano, reagendo anche lui a un piccolo singhiozzo che urtava allo stomaco. Del resto, essa riprese senza alzare gli occhi, sentò che non potrà durare molto. Queste parole, dette senza rancore e senza amarezza, abilirono del tutto il suocero affezionato, che osservando la pallidezza mortale di lei, il profilo assottigliato, l'occhio languido e pauroso, la respirazione affannosa, il tremito della persona che pareva in preda a una nervosa, non seppe respingere un lugubre presentimento, sentì ingrossare la passione, alzò una mano lentamente, con un tremito, la posò sulla testa di lei, ne carrezzò leggermente i capelli, come se mostrasse di raccomodarli sulla fronte, e vincendo una mortale debolezza, mormorò con voce d'uomo che parla in sogno. Lei non deve parlare così, Arabella, noi le vogliamo bene. Arabella mosse il capo con due piccole scosse di ribellione che parvero dire, grazie del vostro bene. Il vecchio intese il significato di quella mossa, e scendendo con la stessa mano a stringere una mano di lei, gliela posò sul tavolino, tenendola sepolta e stretta nella sua, mentre la sua testa piccina ed espressiva si infiammava di una vampa improvvisa. Sì, le vogliamo bene, è forse una brutta maniera di voler bene, e lei meritava meglio. Ma può dire che abbiamo operato con cattive intenzioni? Io non difendo Lorenzo, e anch'io mi sento molto colpevole. Ma si guardi intorno, e dica se chi pensò a prepararle questa casa merita veramente il titolo di avaro, di affarista, di speculatore, di ladro, di svergognato che tutti gli danno. Nei miei affari la prima regola è l'aritmetica, è naturale. Ma può mia nuora, scusi, può la famiglia botta dimostrare che io ho fatto conti sempre a mio vantaggio. Se io fossi proprio quell'usuraio che dicono, il signor Paolino non avrebbe scritto otto giorni fa una lettera in cui mi pregava di un soccorso, e l'ho fatto volentieri, anzi voglio che essa abbia la prova che non invento. Così dicendo, levò il grosso portafoglio da cui trasse alcune carte. Lo so, lo so, si affrettò a dire a Rabella, socchiudendo gli occhi. No, no, lei deve vedere e toccare con mano, insistette lui, mettendo sul tavolino delle lettere e delle cambiali. Ho diritto di essere giudicato sulla base dei fatti, poiché lei ha creduto alle voci della gente e alle calunnie dei miei parenti. Chi mandava in prigione per poche bottiglie di vino e berretta rinnovava al signor Botta dei titoli che rappresentano un valore di 25.000 lire. Mi sarebbe stato così facile passare per un tiranno col signor Botta. Ma non l'ho fatto perché, ripeto, il mio abaco non è soltanto pieno di numeri. Scusi, disse Rabella alzandosi, non so perché lei mi fa questo discorso che io non sono in grado di capire. Me ne ha dette abbastanza la mamma e vede che sono tornata. Io volevo dimostrarle che non è soltanto l'interesse che ci fa parlare, soggiunse sottovoce il vecchio suocero. Non voglio nemmeno che lei si consideri come una nostra schiava. Guardi, consegno a lei questo mio credito queste mie carte. Le faccia vedere a una persona pratica, di sua fiducia. Ne discorra col suo padrino, con la sua mamma, con chi vuole, e faccia di queste carte quel che vuole, le stracci, le bruci. Rabella rifiutò di ricevere le tre o quattro cambiali che il suocero ad ogni costo voleva farle accettare e ciò finì con l'irritarlo. In preda a un tremito convulso, il vecchio aprì il cassetto del tavolino da lavoro, vi cacciò le carte dentro, richiuse con furia, rosso in viso, si alzò, cercò il cappello e, inchinandosi in atto di licenziarsi, balbettò, mozzicando le parole. Faccia come crede, signora, e perdoni se non abbiamo saputo renderla felice. Senta, signore, interruppe Rabella, raccogliendosi da quello stato di neguitosa rassegnazione in cui si era ridotta per sua difesa. Lei è libera se crede può andare oggi stesso con sua madre. Io sono tornata, provo a soggiungere la giovane. Lei è tornata come torna a una schiava e io voglio dimostrarle che a questi patti non accetto il suo sacrificio. Vada e dica pure che l'abbiamo trattata male. Dica pure che in casa nostra non ha mangiato che pane e veleno. Dica pure che siamo egoisti legati all'interesse, ma non ci obblighi a mantenerla come una schiava. Senta, signore, interruppe Rabella, raccogliendo il fascetto delle cambiali e avvicinandosi al vecchio offeso con un contegno tra il rispettoso e il mortificato, non perché avesse qualche cosa da opporre, ma per una nuova paura che ne derivassero più gravi e più oscure complicazioni. Un malato non teme tanto i mali che ha, quanto quelli che ne possono derivare. In fondo al suo risentimento, la coscienza onesta e chiara non rifuggiva dal riconoscere che per quanti torti avesse ricevuto in casa Maccagno, suo suocero si era mostrato verso di lei generoso e buono, e che l'offenderlo e licenziarsi da lui con una dura parola, oltre a non riparare nulla, metteva lei nella condizione di negare la giustizia. Per questo si mossi a trattenerlo, e fu questo stesso senso di giustizia che la persuasi a mostrarsi più indulgente. Senta, papà, abbia compassione di me, vede che io non so quasi parlare. Tu mi domandi della compassione, ma cara figliola mia, sei tu che devi avere un po' di compassione di questo povero vecchio che tutti prendono a perseguitare? Così proruppe con un improvviso mutamento di voce il signor Tognino, tornando in mezzo al salotto, passando in fretta le mani sugli occhi per dissipare una nebbia, umida di lacrime, segno di debolezza e di stanchezza morale, curvando il capo e la persona alla presenza di una donna, che egli collocava molto in alto nei suoi pensieri, e stretta la mano di Arabella, condusse questa a sedere sul piccolo canapè, dove cercò di continuare un discorso difficile e pesante, dal quale gli sfuggivano idee e parole. Lottò un pezzo con la sua incapacità, chiudendo la bocca al singhiozzo, premendo il fazzoletto sulle pupille oscure e dense, crollando rapido la testa, come se compatisse se stesso. Finalmente, dopo aver portata due volte la mano delicata di Arabella alle labbra, mormorò. Abbi pazienza, si sente male? Oh sì, molto qui, disse, battendo con la mano il petto. Se io ho potuto dire qualcosa di spiacevole, valbettò Arabella, fissando lo sguardo sul viso pallido del vecchio. No, no, povera figliola. Arabella si raccolse in una penosa concentrazione davanti all'improvviso trasfigurarsi di un uomo che due minuti prima aveva visto nel pieno vigore del suo carattere ardente e tenace, una di quelle voci improvvise che nel cuore dei buoni sono annunci di ignote verità, sorsi a domandarle, suscitando nell'animo suo un senso quasi di stupore, da qual parte fosse il maggior dolore e a chi tra loro due toccasse ad aver più carità e più compassione. Un occhio malato stenta a vedere il male degli altri. La ragione umana che per giustificare i nostri patimenti ha bisogno di cercare un tiranno ed è quasi sempre fortunata di trovarne o di inventarne uno che basta, si turba e non osa credere quando vede le vittime farsi male tra di loro. Arabella, innanzi alle sofferenze e alle lacrime di un uomo che la fortuna aveva abituato a vincere, si domandò confusamente e rapidamente, come sono tutti i colloqui che facciamo con noi stessi, se per caso essa non aveva abusato della sua debolezza. La puntura velenosa di un'ape moribonda può uccidere un leone. Forse aveva detto delle inutili asprezzi a suo suocero, che verso di lei si era mostrato sempre buono e amoroso. Forse aveva ragione la povera mamma, essa non vedeva che sé. Al venir meno dell'orgoglio che l'aveva sostenuta in questa fiera battaglia, si spaventò a un tratto come un assalito che nel furore della mischia si trova di aver ottrepassato i limiti della difesa e di aver infierito crudelmente e inutilmente su degli innocenti. Sentì che ora toccava a lei dire qualche cosa di meno amaro, di condurre il discorso a una buona conclusione. Dal momento che aveva accettato di tornare a casa non doveva starvi rinchiusa come una fiera irritata, oddio, essa non aveva il cuore di una fiera. Chi l'aveva resa superba e cattiva? Se le pare che la campagna possa far bene a tutti, presi a dire sottovoce, dal momento che ho accettato di rientrare in questa casa, gli obblighi di riconoscenza che ho verso di lei, mio benefattore, se c'è speranza che io possa fare ancora del bene a qualcuno, insomma, io non mi oppongo, disponga a lei come crede meglio. Che tu sia benedetta, ripigliò con più calore il vecchio, facendosi più acceso in volto. So che tu sei buona, Rabella, e se non fosse per la tua bontà io non vorrei soffrire quel che soffro, tutti sono cattivi con me, tutti, è una congiura di tutti contro uno solo e anche lui si è unito ai miei nemici, anche lui mette la porta a suo padre, mi ha ferito qui con un coltello e domani mi trascineranno davanti ai tribunali mostrandomi come una belva feroce dentro una gabbia e un intrigo mostruoso di preti, avvocati, lazzaroni, parenti, amici, nemici, donnacce, tutti contro un povero vecchio e anche lui ci sarà a gridare, dalli, dalli al ladro. Un cupo e profondo sospiro interruppe la violenza di questo discorso. Chiarabella cominciava ad ascoltare con me sta attenzione. Non ha egli alzata la mano sopra suo padre, continuò il vecchio parlando con foga accurata, andate via tutti, lasciatemi qui solo a vivere come un cane, solo contro tutta la canaglia di Milano e così avrò lavorato tutta la mia vita per non raccogliere che odio, improperi, maledizioni, ingratitudine e per essere messo alla porta da quelli che amo. Papà, interruppe Rabella con un moto di terrore, vedendo il volto del vecchio infiammarsi di nuovo, ma come se egli parlasse a una turba che egli solo vedeva, andate, stampate sui muri che io sono un ladro, che ho rubato, che ho avvelenato, che ho bevuto il sangue dei poveri, aizzatemi contro i cani di Milano, fatemi maledire dai miei figli. Ma no, tornò ad esclamare Rabella con un sincero abbandono di pietà, cercando di sviare il povero vecchio da una corrente che lo trascinava alla disperazione, ma l'orgasmo fu più forte. So che mi avete maledetto, egli disse, so che non mi volete più, furono i preti che vi stigarono a odiarmi, pigliatevi i miei denari, buttatemi su una strada, alla gente io rido in faccia, ma non posso far senza della benevolenza dei miei figlioli, questa mi è più necessaria del pane. E il vecchio affarista, trascinato ormai dalla sua stessa energia, non seppe più opporsi al torrente dei mali che da tre mesi andava ortando contro la sua vita, battendone e scassinandone gli argini di granito. Come per una breccia aperta l'onda si riversò, travolgendo le sponde, e si dilagò in un mare di dolore. Rabella non aveva mai visto un bambino piangere e contorcersi nel suo dolore, come vide a un tratto un vecchio di 63 anni, curvo, quasi rannicchiato sopra se stesso, con le mani nei pochi capelli bianchi e il volto nascosto contro lo schienale del divano. Tale fu la sorpresa, per non dire la paura, che non seppe resistere, si mosse, si chinò verso il povero afflitto, cercò nel fondo più buono della sua natura una parola buona. Non dica papà che noi le vogliamo male, tutti possiamo sbagliare nella nostra vita e non credo che Lorenzo abbia potuto dire col cuore una parola cattiva, in quanto a me, se le pare che abbia giudicato troppo severamente, son pronta a farne ammenda, siamo giovani, ci manca l'esperienza, ma ella troverà sempre nei suoi figliuoli amore e indulgenza. Che cosa disse di più? Parlava come per incanto, cedendo a una misteriosa suggestione di benevolenza, non accorgendosi, ed è anche questo un vantaggio dei buoni, che nella sua carità abbracciava nel vecchio addolorato anche la causa che lo faceva soffrire. So che tu sei buona, figliuola, e che non hai il coraggio di maledire un povero vecchio. Se io fossi anche cento volte più colpevole, troverei sempre un po' di compatimento nella mia buona rabella. Sento che fu Dio che ti ha mandata sulla mia strada. Me ne sono accorto fin dalle prime volte che ti ho incontrata sulla strada delle cascine. Una voce qua dentro mi disse subito che tu saresti stata la luce della mia vita e della mia casa. Mi parve da allora di aver trovata per la prima volta la ragione della mia esistenza. soltanto da allora cominciai a vivere per qualcuno, per qualche cosa. Tu hai visto che a questa ragione ho sacrificato molti interessi e molti diritti. Io non fui più io. E ieri sera, quando sono tornato e non ti ho trovata più, sentendomi quasi giudicato ed esecrato da te, ho provato un tal dolore al cuore che ho creduto di morire. Il pensiero che la gente possa farti del male per cagion mia non mi lascia più dormire la notte. È una vita troppo di tormento che mi farà morire. È pazienza. Ma non dirmi che mi vuoi male, che mi disprezzi. Io? uscì fuori a dire con voce esaltata a Rabella, ritraendosi un poco con la persona. Egli afferrò le mani di lei e tenendola così prigioniera, tutto si spezza nelle mie mani. Tutto si spezza dentro di me. Sono più che un uomo malato. Sono un uomo che si sfascia. Senti, ho la febbre. Non ho più forza. Vedo oscuro. Son vecchio. Son stanco. Son cattivo. Ho paura di morire solo come un cane. Rabella, col volto afflitto da una penosa incertezza, cercò una parola di incoraggiamento, ma le parve di capire che il viso poco prima così infocato del vecchio si coprisse di un pallore livido, in cui lineamenti si indurivano in una rigidezza, quasi mortale. Son cattivo. So che son cattivo. Seguito con lenti sospiri, parlando quasi nelle mani di sua nuora. Ma tu sei buona e potrai insegnarmi come si fa a vivere bene. Farò tutto ciò che mi dirai di fare. Andremo via in campagna, lontani dal mondo. La mia volontà sarà la tua volontà. Se dirai cediamo tutto, io cederò tutto. contento di dividere con te un boccone di pane. Arabella non afferrava ancora bene il valore di queste strane parole, che somigliavano a una confessione. Sentendo nelle mani ardenti, vedendo il pallore mortale, andava a pensare che il vecchio delirasse. Quel non so che di religioso e di materno che era nel fondo della sua indole, fu tuttavia profondamente toccato dal pianto e dai sospiri del povero vecchio, che invocava pietà e misericordia. È vero, tutti lo respingevano. Tutti si ergevano coi suoi giudici e suoi persecutori. Lo vedeva ora così malato, così abbattuto. Via, si faccia animo, papà, e disponga pure di me fin dove posso essere utile. Non c'è male per quanto grande a cui Dio non trovi un rimedio ancora più grande. Lei è proprio malato, vedo bene. Ha bisogno di riposo, di tranquillità d'animo. Ha la febbre, sento. Anche il suo aspetto mi dice che non si sente bene. Devo chiamare l'Augusta. Il vecchio fece segno di no. Lei si sente male? Arabella cominciò a tremare e cercò svincolarsi per correre a chiamare gente, ma lui la trattenne forte per un lembo del vestito e, mormorando parole grosse e confuse, le fece capire che voleva scrivere. Scrivere! Indicò col dito un calamaio sul tavolino da lavoro. Arabella accostò il tavolino, aprì il calamaio, stese un foglio, mise la penna in mano al vecchio, obbedendo in preda a una convulsa agitazione ai cenni di quel pover uomo che la tratteneva sempre per il lembo del vestito. Passa, mormorò con voce di fiera malinconia il vecchio come se si riavesse da una momentanea vertigine. Appoggiò la testa alla mano sinistra, strappando con l'altra il vestito della giovane che si inginocchiò, cedendo quasi all'invito di un comando interiore. Ho da chiamare qualcuno. No, sto bene, sta qui. E dopo aver arzigogolato un poco con la penna, il vecchio malato cominciò a scrivere in righe oblique, mostrando nella contrazione dolorosa del viso, duro e pallidissimo, lo sforzo della fuggente volontà, Arabella, che sentiva si molle al viso di lacrime, vide che a un certo punto la mano del vecchio si irrigidì. Fu per gettare un grido di avviso, ma egli se ne accorse. Svegliandosi, la guardò teneramente, mosse le labbra a un sorriso morto e allungando la mano a riprendere quella di Arabella, dopo un lungo sforzo per formulare la parola, disse, prega. Arabella aprì le braccia e sorresse il corpo cadente, mentre cogli occhi pareva chiedere soccorso intorno a sé. Quando si accorse che il malato veniva meno, non trovando in sé stessa la forza né di gridare né di sollevarsi, allungò la mano fino a toccare il bottone del campanello elettrico e riempì la casa di uno squillo lungo e spaventato. Sentì core reggente. Entrò l'Augusta, che visto il viso irrigidito del vecchio e gli occhi spaventati della signora corse fuori a chiamare la gioconda. Le due donne prestarono i primi soccorsi finché qualche vicino avvertì il portinaio e si mandò per il dottore.